ben tornati su sterrato io sono paolo io sono luca oggi siamo alla quindicesima puntata del podcast e abbiamo l'onore di intervistare simone corsini direttamente dal tor de jean e la sua seconda posizione complimenti per la posizione intanto e abbiamo qui simone perché è un po un comune amico anzi abbiamo un comune amico insieme sia madden snow e però approfondiremo tutto tutta la questione amici e conoscenti lungo lungo la nostra chiacchierata salutiamo ovviamente francesco e tutto il team madden snow e ricordiamo anche qua in attrattura che comunque siamo in partnership con madden snow e abbiamo un coupon sconto che però è solo diffuso nel nostro gruppo telegram quindi così un po di advertising scaricate telegram e avrete il codice grandissimo questo lo usiamo come spot proprio eccoci qua allora intanto innanzitutto per chi non conosce simone appunto ti chiediamo una brevissima tua bio così abbiamo un po di tua informazione poi andiamo invece a capofitto con le domande ok sono sono simone corsini mi avete già presentato sono un dore per passione è un po anche per sono diventato corridore per per forza diciamo perché la calcio poi gli inizi con l'università non c'era più non c'era più tempo sono andato via da casa mi sono ritrovato a bologna a studiare così ho detto vabbè dai facciamo una corsetta ai giardini margherita per mantenerci in forma e dopo da lì prima iscrizione alla maratona e dopo da lì è nato tutto e non riesco più a fermare nella vita faccio il professore alle scuole superiori insegno all'istituto tecnico quindi elettronica elettrotecnica e sistemi per perché del settore e nel tempo libero mi piace mi piace fare fatica soprattutto di corsa ma non non disdegno neanche qualche uscita in bici d'inverno sci alpinismo ok perfetto quindi dai ti diciamo già che in realtà noi tu sei il terzo professore che intervistiamo perché prima di te abbiamo intervistato alessio zambona e francesco rigodanza e ora te quindi abbiamo abbiamo capito che per essere forti nell'ultra distanza e bisogna fare i professori quindi no beh loro sono più forti però forse il mistero del professore aiuta nella corsa evidente beh è anche perché comunque avete un po più di tempo libero dai d'estate almeno a no 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 su questo lo dico sempre io siamo fortunati da quel punto siamo fortunati poi in qualche modo dobbiamo sfogarci perché ragazzi non non possiamo maltrattarli quindi ci sfoghiamo correndo giustamente sì beh fortunati no comunque per fare i professori comunque bisogna farsi un mazzo tanto quindi non è fortuna direi diciamo che è un percorso un po lungo però a chi piace è di soddisfazione e anche sicuramente nel mondo dell'educazione come nel mondo del running ci vuole una testa veramente importante una caparbietà soprattutto per chi insegna comunque alle superiori cosa c'è entrato in questa cosa tra la tua professione e la tua passione ci trovi delle cose in comune appunto come questa che ho sparato io a caso sicuramente no no assolutamente dal punto di diciamo mentale psicologico ci sono tanti aspetti in comune perché sembra il mestiere del professore sembra tutto rose fiori tanto tempo libero e quant'altro ma in realtà stare in classe con i ragazzi gestire le dinamiche e i loro problemi così non è per niente difficile e questo aiuta tanto la corsa è diciamo un binomio questa cosa con 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 la docenza e dal punto di vista mentale comunque essere sempre concentrati riuscire a gestire appunto i problemi che si presentano man mano che si presentano aiuta molto lo sport soprattutto la corsa nelle in questo mestiere diciamo che ti ti dà giovamento sia essere professore nella corsa che viceversa assolutamente e quindi invece dal punto di vista quindi allenamento perché andiamo a definire la tua la tua regione dove dove ti alleni e quindi sei sugli appennini sono di reggio quindi provincia limitrofa a modena però si diciamo che l'appennino lo giro in lungo e in largo tra reggio modena destra e sinistra l'appennino il nostro appennino è il principale terreno d'allenamento quindi sfatti il mito di dover per forza avere montagne altissime per poter fare bene sulle lunghe distanze soprattutto su in quota sì diciamo che sicuramente avere montagne alte quindi salite lunghe di livelli importanti sicuramente agevola nella preparazione di lunghe e poi chiaro che bisogna adattarsi e fare con quello che si ha e l'appennino comunque ci dà ci dà tante possibilità non avremo salite infinite ma si faranno due volte io comunque non non lo trovo per niente inferiore rispetto a quelli che possono essere le alpi o comunque altri territori seppur bellissimi presenti in italia anche a livello di testa quando tu stai facendo una una gara nelle alpi e invece di avere un dislivello di duemila metri un mangia bevi stile appennino ce l'hai dritto per dritto senti comunque un po di difficoltà pensi di sentire delle difficoltà in più e di ovviamente di poterle superare come hai letto prova però la senti questa cosa o proprio zero ma diciamo che le prime le prime volte l'ho accusata sicuramente il non essere non essere punti non aver mai fatto in allenamento comunque è salita magari che ti portano via duemila duemila e trecento metri di dislivello come quando sei a donna se deve arrivare al coda e in mino non riuscirai mai a fare salite del genere però dopo facendo gare allenandosi continuando comunque a stare sopra i dislivelli anche la testa si abitua se non l'hai mai fatto in allenamento comunque non è un problema se hai allenato bene anche su salite inferiori ecco da quel punto di vista non non ho mai trovato grosse difficoltà allora adesso andiamo andiamo subito sulla sull'elefante nella stanza ossia il tor che per te il suo è il secondo tor l'anno scorso avevi fatto un quinto posto e poi quest'anno hai fatto il secondo posto e tra l'altro eri eri probabilmente l'incubo del primo di russi perché io ero salito all'ultimo rifugio all'ultimo ristoro prima per vederlo passare e la prima cosa che ha detto uscito dalla nebbia e seduto a ristore è stato dov'è corsini e tutti che gli hanno detto guarda dietro c'è dietro di parecchie ore no no io l'ho visto dietro di me era dietro di me e quindi eri proprio nei suoi incubi era il suo incubo grandissimo Jonas però inarrivabile come come è stato dai prime impressioni cioè prime impressioni a distanza di un paio di settimane però rifarlo cioè intanto cosa bisogna avere nella testa per rifarlo e poi cosa si porta a casa la seconda volta soprattutto sicuramente rifare il tor è complicato il problema è nasce quando lo fai la prima volta il tor dopo ti ammali ti viene il mal di tor e non riesci più a farne senza quindi come ho finito l'anno scorso il tor subito pensato pensavo già al tor di quest'anno nonostante sia passato un mese comunque la testa è ancora là perché le emozioni che si provano è al tor quello che si vive è una cosa talmente talmente grande talmente invadente che ti lascia i lasci degli strascichi che sono difficili da da superare in positivo ci mancherebbe poi il fisico quello pian piano si riprende però diciamo che è un evento di di tale portata a livello psicologico che che ti segna ti rimane dentro e secondo me anche per questo dopo la volta che lo si è fatto non riesci più a farne meno devi devi tornare a vivere quelle emozioni perché solo solo al tor riusci a viverla ma è una questione più di l'ambiente il mood o è proprio una questione fisica del corpo cioè delle sensazioni che vai a ricercare perché comunque difficilmente le puoi andare a ritrovare continuamente in altre uscite sicuramente la distanza al tempo le difficoltà della gara sono uniche perché gare del genere non non si fanno tutti i giorni ma tutto anche l'ambiente che si che si respira che si viva al tor i volontari tutta la gente che crede nel tor che quella settimana si dedica tempo pieno al tor quindi è una cosa è una cosa unica come se posso chiederti come come l'hai gestita a livello di sonno visto che è una delle cose di cui abbiamo parlato anche nelle nostre interviste con mentre eravamo lì con voi al tor abbiamo parlato con altri atleti che magari che non hanno corso quest'anno e anche altri tipo petter che invece ha corso ma si è ritirato come l'hai gestita tu in quel senso la parte del sonno quest'anno è stata un po' il mio incubo peggiore perché quest'anno veramente sofferto tanto il il sonno già la prima notte quando sono arrivato ad un assolino di mattina avevo già sonno volevo già dormire però purtroppo si ho programmato quest'anno di fermarmi di fermarmi a niel però quando sono arrivato quando sono arrivato lì i complice il delirio di gente che c'era e euforia e quant'altro non mi sono dormito ho fatto una bellissima sosta poi mi sono fatto a aggressionei per dormire è l'unica l'unica mezz'ora che ho dormito al tor di quest'anno e pensi che il divario che c'è stato tra te il primo si sia giocata tanto anche in quella mezz'ora di sonno visto che comunque lui ha detto che ha dormito 17 minuti pensi che qualcosa sia stato quello cioè come si fa a limare quella quel tempo lì sì diciamo che sono penso che per per fare i tempi hanno che fanno i primi quelli che vincono così ci si debba fermare ancora meno rispetto a quanto fatto io perché comunque non sono stato fermo tipo solo mezz'ora aggressionei perché ora che arrivi in base vita mangi qualcosa ti appoggi dormi con la mezz'ora così fa presto un'ora vola via e jonas e al massimo al massimo si è fermato in una base vita 20 25 minuti non di più non siamo partiti carichissimi siamo andati subito a parlare di torma tu prima quando ti sei presentato simone parlavi anche di come sei partito con la corsa e quindi dal dalla strada in realtà il giardino grita e poi la maratona e come si fa a passare da dalla maratona a un secondo posto al tor con più di 300 chilometri quasi 400 chilometri diciamo che è andato tutto un po per per caso se possiamo dirlo ho iniziatosi come dicevo dalla dalla maratona di reggio quindi dalla strada dalla asfalto è stata la mia prima gara in assoluto poi per forza di cosa sono passato alla al trail quindi alla corsa in montagna perché abito io comunque mi allenavo su salite discese fuori strada e mi mi era un po difficile ecco con da allenarmi bene per la strada e ho iniziato con le prime con le prime gare in montagna e fino a al 2000 di al 2020 ho sempre fatto gare fino a 50 chilometri la più lunga penso fosse 60 la tartufa avevo fatto qualcosa e dopo non so per quale motivo mi sono iscritto al top così infatti stavo guardando il tuo percorso e hai fatto e tra l'altro svariate volte o cc ma non hai mai fatto distanze intermedie tra i 100 e 350 sono lasciamo io ho sempre fatto la usc e dopo quando eravamo a casa per il co video così dove provo l'iscrizione al tor vedo come va e mi hanno preso giustamente quando quando provi una cosa così mi hanno preso e dopo ho detto vabbè proviamo a fare il tor dopo da lì ho fatto la prima gara lunga sostanzialmente che è stata l'abbos way e poi ho fatto la gtc alla 100 a luglio dell'anno scorso e poi il tor quindi facendo l'abbos hai anche qualcosa di ticket per la lottere di western o sbaglio o anche il ticket per la western e vabbè quello rimane un sogno enorme spero prima o poi di riuscire ad andarci adesso è un po complesso come come logistica come tutto però sicuramente western e hard rock è il sogno il sogno di tutti i trailer penso in termini di allenamento invece te come come sei come atleta applichi quello che è la mentalità da professore da da tecnico da specializzato o sei molto più alla sensazione è molto più sulla seconda sulla seconda opzione quindi vado molto più a sensazione non ho tabelle non sono capace di seguire le tabelle quindi riesco a correre e faccio quello che ho voglia di fare sostanzialmente magari sono delle volte che dico esco faccio 40 minuti tra 40 minuti torno a casa poi capita che sto in giro due ore due ore e mezzo altre volte magari dico oggi voglio andare in pista dopo scuola mi fermo vado in pista fare qualche ripetuta ecco l'unica cosa che cerco di programmare sono poi lunghi anche se anche quelli si riparto vedo vedo come va dico domenico sabato domenica faccio lungo però non non sono in quello non sono per niente bravo ad organizzarmi a periodizzare le cose come si dovrebbe fare e non non pensi che quel quel tipo di mentalità ti possa fare ancora visto che comunque hai portato a casa tanto anche finora fare ancora un step in più mezza provocazione no no sicuramente sicuramente fare le cose come vanno fatte quindi come con più criterio diciamo sicuramente potrebbe migliorare qualcosa nella prestazione non sono non sono così convinto dal punto di vista mentale ecco perché sono uno che se si ha troppi vincoli se si sente troppo legata una tabella qualcosa o quell'altro magari perde un po' di quella che è la voglia di correre di fare le cose per per divertimento che sostanzialmente è quello che faccio certo verissimo alla fine lo fai per scaricare se deve diventare un altro anche questo un altro elemento di stress si lo faccio per divertimento per passione per testare bene se deve essere stressato la mattina quando mi sveglio perché dico oggi pomeriggio la tabella dice che devo fare 15 volte mille no non sarebbe non sarebbe quello che quello che è per me la corsa quello che ti fa stare bene finito una gara come il Thor quanto ti sei voluto per recuperare in termini di tempo sia prima di tornare a correre sia prima di di smaltire il male che avevi dentro che avevi accumulato ma quest'anno dal punto di vista fisico l'ho l'ho accusata molto meno rispetto all'anno scorso forse perché ero più più preparato fisicamente ma anche mentalmente sono stato fermo cinque giorni quindi cinque giorni senza corsa poi pian piano ripreso proprio a far girare le gambe così pian piano e poi giustamente sempre parlando di criterio ieri sono andato a Pisa a fare la mezza maratona sembra perfettamente giusto a 28 giorni dal Thor e vabbè però sì diciamo che quest'anno ho ripreso un po' più in fretta rispetto allo scorso anno fisicamente penso di averlo già smaltito chiaramente non allungando troppo le distanze mentalmente è un po' più difficile comunque sono anche bravo a stare fermo cinque giorni per una persona con la tua voglia se penso anch'io forse non riuscirei a stare fermo cinque giorni per me sì è stato fortunato diciamo che avendo finito il mercoledì fino alla domenica siamo rimasti a Courmayeur quindi l'ambiente il clima così non mi faceva pensare all'uscire per andare a correre e dopo come sono tornato a casa il martedì sono ripartito subito e la preparazione visto che comunque una domanda che ci hanno mandato in privato da Porti è la preparazione di un toro comunque di gare molto molto lunghe è più votata verso l'accumulare quantità di chilometri settimanali o quantità di dislivello settimanale per arrivare pronti o pronti almeno psicologicamente? Per quanto mi riguarda io ho sempre cercato di mantenere comunque un buon livello di quantità sia come chilometraggio che come dislivello quindi soprattutto a partire da giugno in estate ho allungato con aumentati chilometri anche il dislivello primavera anche roba comunque abbastanza veloce che ha poco a vedere con il torre dai mesi estivi caricato tanto come dislivello e come chilometri è quello che psicologicamente mi faceva stare meglio e anche fisicamente più o meno su che volumi sei settimanali di chilometri se si può chiedere? Sì sì come volumi le settimane di carico arrivo ai 200-220 con 13-14 mila metri di dislivello a luglio ho fatto 4 settimane così impegnative dopo la GTC o altrimenti le altre settimane comunque giro sempre attorno ai 150-160 km alla settimana Sì è un bel volume è un extra volume ecco rispetto alla norma delle persone che soprattutto me l'hanno chiesto mi hanno chiesto di domanda da farti Rispetto a quello che fanno le diciamo sostanzialmente grazie sostanzialmente quelli che conosco ecco non fanno tutti questi enormi volumi Io ho sempre creduto nella quantità so che per certa gente è una bestemmia per certi allenatori però è quello che mi fa stare bene Beh sì alla fine Alla fine la questione psicologica quasi viene prima di quella fisica ecco se sei irrequietto psicologicamente Sì diciamo che se devi fare una cosa che dicono devi fare quello ma poi psicologicamente mentalmente non ti soddisfa non ti fa stare bene credo che sia controproducente Ma peggio assolutamente sì Tornando invece al discorso del Thor della gara Tu sei riuscito o magari ti interessava o ti è interessato anche guardare quello che stavi vivendo viverlo anche dal punto di vista proprio sensoriale o eri tanto tanto concentrato nella gara non che una cosa sia meglio di un'altra ma è proprio una curiosità anche personale No quest'anno ho avuto più occasioni per godermi quello che avevi intorno soprattutto perché ho apprezzato molto quei passaggi che l'anno scorso avevo fatto di notte e chiaramente di notte non si riesce a vedere quello che c'è intorno passare quest'anno di giorno dove l'anno scorso non avevo visto nulla è stato molto bello è stato molto emozionante certi posti come ad esempio il rifugio della Barma il Magia, il Cunei quei rifugi lì che ero arrivato di notte quindi decisamente più provato e me li sono goduti è stato molto bello Figo, quindi sei riuscito anche a alzare la testa ogni tanto Sì, sì, sì Il Thor si prepara anche andando sui sentieri del Thor oppure si può anche evitare di andarci? Sì, questa è una domanda che abbiamo fatto anche durante le nostre live del Thor quando eravamo su a Courmayeur e quasi tutti ci hanno dato una risposta vediamo se combacia, ecco Ma non lo so sinceramente non ho una risposta a questa domanda per quanto mi riguarda io ho fatto il Thor senza mai essere stato sui sentieri del Thor può avere i suoi pro e i suoi contro come dicevo quest'anno quando torni al Thor che conosci il percorso può essere di estremo vantaggio quando le cose vanno bene se le cose iniziano a mettersi male invece può essere un'arma a doppio taglio perché se sai che stai male se in una condizione non ottimale e ti aspetta la salita al Malatrad a San Remy sicuramente se sai come la salita non aiuta molto psicologicamente se invece stai bene e quant'altro ti aiuta molto perché sai comunque quello che ti aspetta sai come dosarti sai quando finisce Una volta che si fa il Thor e lo si fa due volte i programmi per il futuro quali potrebbero essere? i programmi per il futuro si pensa già a quando rifare il Thor poi non so è un fango è un fango dove si finisce dentro non esce più non esce più sicuramente la voglia di rifarlo c'è già farlo per il terzo anno di fila mi piacerebbe certi giorni mi viene qualche dubbio però penso che che mi presenterò di nuovo a settembre a Courmayeur vabbè se adesso hai qualche dubbio direi che è certo che ti presenterai non vorrei ma è così e invece allungare ancora le distanze e fare per esempio la corsa dei ciclopi per dire è sempre organizzata dall'organizzazione del Thor su quello è una cosa che non mi attira 350 sono già veramente 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 tanti e di più è una cosa che non mi stimola che non mi attira poi sicuramente so che se dovessi fare 500 km dopo diventa lo stesso discorso del Thor però mi fermo lì di più non li farò e la tua distanza quindi preferita rimane quella o comunque quella è l'apice di invece altre gare che non so ti piace di più diciamo che la distanza preferita proprio di gara per me è 120-130 km direi poi il Thor è il Thor quindi per l'insieme di cose per quello che è il Thor rimane la gara della vita rimane la gara più bella in assoluto però tante altre gare sono belle quindi UTMB rimane sempre la tua gara oppure andare sulla gara regina e quello no perché in realtà c'è il Thor che è l'amante prediletta il problema di Chamonix è sempre quello che o fai Chamonix o fai il Thor quindi è difficile mettere insieme tutte e due le cose nello stesso anno diciamo che l'UTMB in sé è spettacolare per il clima che c'è a Chamonix con la settimana che forse è ancora più bello viverlo da fuori che correrlo non lo so bisognerebbe provare se devo essere sincero ma tira molto di più la TDS rispetto all'UTMB quindi prima di fare l'UTMB farò la TDS poi sicuramente almeno una volta nella vita l'UTMB va fatto però se dovessi dire quali sono le gare che vorrei fare tra quelle non c'è l'UTMB ce ne sono tante altre ecco quindi più Stati Uniti o TDS o comunque cose più selvagge sì sicuramente mi piacerebbe fare tante gare bellissime gare all'estero così l'UTMB si farà però non è quello che mi piacerebbe fare adesso ecco ottimo scusami ci sono delle domande che comunque noi dobbiamo fare perché le persone che ci seguono vogliono sapere il più possibile vogliono avere cose la stessa cosa da più persone autorevoli e quindi ti chiedo anche a te come abbiamo fatto in passato l'alimentazione visto che comunque ci hai raccontato che a livello di allenamento vai un po' come ti senti come ti fa stare bene in termini di alimentazione ovviamente c'è sempre il cerco quello che è meglio per me ma sei contento? te lo avete un po' più matematico? o anche lì è proprio tutto a sensazione? diciamo che dal punto di vista alimentazione ci sto un po' più attento lo curo maggiormente senza privarmi di nulla nei mesi lontano dalle gare poi è diventato un mantra riso e pollo perché il mese prima del Thor e la settimana del Thor praticamente mangio solo ed esclusivamente riso e pollo quindi la mia famiglia, la mia ragazza e così i miei amici mi prendono tutti in giro perché ci sente odore di riso, di basmati ovunque sì, diciamo che prima delle gare ci sto molto attento lontano dalle gare invece mi concedo anche qualche stravizio e anche il livello visto che noi avevamo parlato con Elisa Borzani che lei consigliava anche di aumentare il livello di idratazione le settimane prima di una gara così importante è una cosa a cui stai attento anche tu sul fatto di aumentare proprio il volume di acqua da bere sali minerali e quant'altro prima della gara oppure dici è una cosa che non ho mai fatto non è una cosa che non ho mai curato perché sono uno che sostanzialmente beve tanto di su io i miei tre litri, tre litri e mezzo d'acqua al giorno li bevo sempre sia che ogare o che non ogare quindi quella è una cosa che non ho mai non ho mai neanche pensato sinceramente di dover curare però adesso che mi avete messo la pulce nell'orecchio la proverò sicuramente direi che comunque tre litri, tre litri e mezzo al giorno cioè sei al top poi dipende sempre da quanto ne perdi, quanto ti alleni certo, no sicuramente comunque è già un buon quantitativo di liquidi e per quanto riguarda l'alimentazione in gara invece? fino a gare da 100 km, 120 km la parte predominante è gel e per quanto riguarda banane perché le digerisco molto bene mi danno tanta energia barrette non ne uso perché non mi danno problemi di stomaco per gare extra lunghe come il torre diciamo che sicuramente la minestrina è quella che ti aiuta di notte soprattutto quando c'è freddo ti salva la vita e poi anche lì tanto riso banane qualche cosa dolce biscotti, plum cake che si trovano ai ristori e diciamo roba più di sostanza rispetto ai gel che si usano nelle gare classiche quest'anno ti vedremo alla LUT al 120 visto che hai parlato della tua distanza comunque che è 100, 120, 130 km oppure no? io ho fatto la prescrizione alla LUT ho spulciato un po' il regolamento e mi sembra di aver capito che dovrei rientrare senza sorteggio con il punteggio i tra uti, mb index e come si chiama adesso allora va super grassa è un po' un delirio il mio grosso problema della LUT è che in quel periodo ho sempre l'esame di maturità ecco perché continuavo a guardare e diceva che è impossibile eh sì, anche quest'anno ero iscritto due anni sono iscritto e non sono mai riuscito a farla perché in quel periodo ho gli esami di maturità e devo essere a scuola ah già, ecco ecco, vedi la sfortuna eh sì c'è il pro e il contro di fare il professore quindi c'è anche c'è anche la questione delle gare negli Stati Uniti che diventano un problema perché ce ne sono di parecchie comunque anche in quel weekend lì eh, diventa diventa molto già comunque il tore è complesso perché per quanto riguarda la mia regione era già iniziata la scuola sia quest'anno che lo scorso anno quindi ho perso la prima settimana di scuola sia l'anno scorso che quest'anno quindi già lì eh, organizzare tutto diventa diventa difficile quindi eh se la prima settimana di scuola riesco a gestirla un po' meglio con gli esami di maturità non ho margine di di movimento ecco a meno che non ti prendi solo le quarte cosa di questo tipo quindi eh purtroppo purtroppo non è così perché anche quest'anno le quinte quindi vedremo un po' come sono le date quest'anno se riesco a incastrare di partire il venerdì mattina rientrare la domenica vediamo un attimo come è una cosa che purtroppo però riesco riesco a decidere solo a maggio in oltre a tour de force incredibile e poi esami da distrutto esatto però si sta seduti lì va bene non mi muovo e i tuoi studenti come la cosa ne pensano impiegato i miei studenti cosa ne pensano di questa cosa o non gliene frega assolutamente nulla no i miei studenti loro mi chiedono sempre cosa che gara ho fatto la domenica tipo il lunedì quando si sta nella scuola sento i prof fieri che gara ha fatto dove è stato ha corso non ha corso sono sempre molto molto curiosi anche un po la lezione così almeno sono furbi però gli dedico poco tempo ottimo e invece con con Mothersnow tu sei praticamente sponsorizzato sei hanno la tua hanno la loro mano sulla tua spalla come come funziona da quel punto di vista lì io quest'anno ero supportato diciamo tecnicamente da Oca e Compresport a livello di materiale e poi ero tesserato con il team Mothersnow di Francesco certo certo ok ok e con quante scarpe e con cosa hai corso il Thor o in generale cosa ti piace correre quest'anno il Thor con cinque scarpe tecton sono partito con le tecton che le ho tenute direi fino a Cogne a Cogne le ho cambiate ho messo le Speedgot a Donnass ho messo un altro paio di tecton e dopo Donnass a Donnass si arriva Sieniel poi Gressonei Donnass non è ricrepato dicevi prima eh sì perché dopo andando avanti si perdono si perdono un po' i pezzi comunque sì mi ricordo che ho chiuso con le Mafate però sì le mie preferite sono le Speedgot se devo essere sincero come Anca però anche con le tecton mi trovo benissimo comunque tutti i nuovi modelli nulla di archiviato sì tutti i modelli sì ok ok comunque in generale cioè la scarpa erano scarpe tutte nuove comunque con poco chilometraggio o in generale erano tutte scarpe sulla quale avevi già corso un bel po' no erano tutte scarpe con poco chilometraggio o al massimo al massimo 50 chilometri per fare una stima a scarpa e per preservarle nel migliore dei modi perché ho visto che al tor comunque la stanchezza porta a correre male una scarpa ancora in condizioni ottimali quindi a livello di suola di Tomai ancora sostenuta dà un bel aiuto infatti questa vabbè nella mia umile e microscopica esperienza rispetto alla tua devo essere sincero che io piuttosto preferisco una scarpa iper nuova piuttosto che andare con la ciabatta e vabbè quando abbiamo fatto la Ultra Dolomite che abbiamo così preso una scarpa da zero proprio mai corso oltre alle vesciche vabbè il resto l'ho trovato solo che positivo però vabbè le vesciche assolutamente pazienza e è una cosa che spesso noto che le persone non riescono a mettersi in testa che se hai un obiettivo una gara o comunque un percorso importante che comunque tu ci vuoi mettere tutta l'anima possibile farlo con una scarpa dei 15 di 15 anni prima diciamo che non è proprio la strategia migliore per affrontarla è un è quel qualcosa in più che la scarpa nuova ti può dare assolutamente io per tanti modelli la Speedgot ad esempio ho fatto la GTC mi era arrivata due giorni prima la Speedgot e l'ho usata direttamente alla GTC perché è una scarpa che conosco benissimo che ne usate un'infinità e con quella so da andare sul sicuro ecco è anche una questione molto psicologica tanta gente magari non le usa per la prima volta in gara forse perché non è così sicura della scarpa così per quanto mi riguarda opinione strettamente personale per certe scarpe non ho assolutamente problemi ad usarle anche da nuove in gara c'è lato lato calze quindi lato tecnico calza visto che comunque in una gara così come il Tor o comunque sulle ultradistanze ci si pensa sempre poco ma in realtà è un elemento fondamentale sì anche la calza è una parte fondamentale insieme alla scarpa adesso non ricordo esattamente quante calze ho cambiato al Tor per quello dovrei chiederlo a mia mamma che mi ha fatto assistenza però sì anche di calze ne ho cambiate e ne ho cambiate veramente veramente tante perché comunque mantenere il piede asciutto e togliere umidità e quant'altro su gara da 70 75 80 ore fa veramente la differenza e sai su utilizzi tanto a noi non ci importa fare pubblicità cioè fa lo stesso non abbiamo tanti problemi ma sì io uso compresport sì sì fornitura di scarpe oca e appigliamento intimo tutto il resto compresport interessante e scusami quanto ti dura una scarpa cioè quanti chilometri ci fai sopra prima di smetterla per le scarpe da trail più di 300 350 chilometri faccio fatica a farli perché tra la suola che si usura e o la tomaia che in qualche modo si taglia perché prendi un sasso una radice o quant'altro di più di più non riesco per discorso strade invece durano molto di più quindi quindi se facessi solo trail cambieresti una scarpa ogni due settimane praticamente se facessi solo trail avrei la casa in base di scarpe non che adesso non l'abbia però ne userei veramente tante anche perché poi magari non riesci a buttarle perché dici no però magari le tengo ancora eh no ma infatti prima o poi qualcuno mi metterà le mani ad osso nella mia famiglia perché ho tutte le scarpe da quando ho iniziato a correre quindi non le ho mai contate ma secondo me ormai 200 paio di scarpe in garage ce le ho ma tieni tutti gli ossi quindi qualsiasi osso tutto tutto io sono da quel punto di vista lì sono molto problematico è una malattia sai questa cosa qui sì 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 è una malattia io lo tengo tutti infatti prima o poi ripeto qualcuno mi metterà le mani ad osso ma sono pronto a questa cosa io ho rischiato di finire fuori di casa solo perché ho voluto tenere il primo paio di scarpe da trail che mi sono comprato cioè è un problema ma allora sì sì io ho le le Salomon le Sense le prime scarpe da trail che ho comprato bucate dappertutto ma sono ancora lì e non le butterò mai via ottimo ottimo molto bene molto bene e a parte che penso che fra poco tua sorella vero è a pallavolo dovrebbe uscire tra poco sì 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 dopo la vado la vado a recuperare vabbè dai direi che ti abbiamo chiesto tutto Simone sei stato gentilissimo super gentile grazie mille a voi mi scuso per la connessione per la location quella quella la colpa è l'operatore telefonico è stata perché sapevo che era a casa lunedì però l'imprevisto l'ultimo minuto ho dovuto non è riuscito a portare la sorella a pallavolo l'abbiamo portata a casa tranquillamente senza problemi poi tanto ci penso io a sistemare a tagliare e cucire e far sembrare tutto qualcosa di perfetto quasi ma no dai anche il perfetto è bello esatto esatto è vero sì un po' così un po' wide esatto esattamente esatto come il trail un po' così come viene grazie mille ancora Simone mi raccomando a voi invitiamo tutti a seguirci ovviamente su tutte le piattaforme di lasciare un like se il video è piaciuto e qualche commento e ovviamente il video lo si può trovare anche sul podcast per chi non conoscesse anche quel canale l'audio l'audio sul podcast il video è vero è vero è vero ricordate di seguirci anche su Instagram e ovviamente il codice sconto su Telegram Telegram quindi Play Store o Apple Store e scaricare Telegram esattamente per andare su Madden Snow e fare il proprio acquisto col codice sconto quindi da sterrato è tutto alla prossima per la prossima